Prosegue il cammino per la costituzione del Comune Unico fra Figline d'Incisa. Le basi per concretizzare il progetto sono ormai state gettate e il dibattito si fa sempre più stringente. A tale proposito si terrà venerdì prossimo 16 dicembre un convegno a Figline. Abbiamo chiamato l'iniziativa Comunico, proprio a indicare con il gioco di parole il Comune Unico di Figline d'Incisa e anche il Comunico perché iniziamo il percorso partecipativo con la cittadinanza. Quindi è un momento per spiegare insieme all'economista Stefano Casini, benvenuti, l'importanza da un punto di vista economico di una fusione di due comuni della nostra grandezza e anche in uno stesso sistema territoriale. ci sarà Luca Toschi che è un professore universitario che si occupa di comunicazione. La cittadinanza è invitata a partecipare al convegno perché sarà proprio la popolazione a dover decidere prossimamente sull'istituzione del Comune Unico attraverso una consultazione referendaria. Appuntamento a partire dall'ore 15 di venerdì prossimo presso la sala consigliare del Comune di Figline. Insomma iniziamo a discutere quel percorso partecipativo che porterà poi al referendum perché il Consiglio Comunale di Figline e di Incisa ha chiesto che entro il 2012 si indica il referendum e i cittadini decidano cosa fare per il futuro delle proprie comunità. Io credo che sia una grande sfida, una sfida di esempio anche per altre realtà. Una sfida che è nell'ottica della semplificazione, nell'ottica del maggior peso politico, della maggiore efficienza interna alla macchina comunale, una sfida da tutti i punti di vista ma quello maggiore al quale più teniamo è anche il modo per ripensare il rapporto tra cittadini e istituzioni. Sì, il Comune Unico è un modo per pensare anche una comunità nuova. Grazie a tutti.